La protezione civile siciliana ha consegnato a confesercenti circa 300.000 mascherine. Queste mascherine sono state distribuite in tutte le sedi di confesercenti nelle diverse province e da lunedì saranno a disposizione di commercianti, di artigiani, di operatori del settore turismo e dei servizi che ne faranno richiesta. Abbiamo cominciato comunque la distribuzione in un comune emblematico che è quello di Villafrati, che è il comune zona rossa, dove abbiamo mandato 3.000 di queste mascherine che attraverso i volontari della protezione civile locale verranno distribuite a tutti gli operatori economici del paese. Crediamo che in questo momento di grande difficoltà questa iniziativa possa assumere un suo rilievo e per questo ringraziamo il governo regionale e la protezione civile per l'accortezza che ha avuto. Grazie. 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 Grazie.